Onorevole Tavaglieri. Buongiorno commissario, io volevo invece focalizzare l'intervento sulla plastica, un materiale di cui l'Italia purtroppo per fortuna è il secondo produttore europeo, un materiale che ultimamente è stato vittima di una discriminazione, di una campagna denigratoria proprio da parte delle istituzioni europee. In realtà il comparto della plastica è uno dei più all'avanguardia dal punto di vista dell'innovazione, ma soprattutto garantisce occupazione, solo in Italia impiega più di 160.000 addetti. Ecco perché a volte le posizioni un po' estreme della Commissione in materia di condanna alla produzione della plastica a volte rischiano di essere poi pagate direttamente dalle imprese e dai lavoratori. Tasti inutili poi come la plastic tax in realtà non contribuiscono in alcun modo al beneficio dell'ecologia e dell'economia circolare ma danneggiano invece una filiera importante che in realtà è molto più sostenibile ed etica di filiere di altri paesi terzi che invece non rispettano alcun vincolo ambientale. Quindi la mia domanda è, seppur retorica comunque di attualità, perché dovremmo colpire il nostro comparto per poi farci inevitabilmente invadere da prodotti stranieri molto più inquinanti. Ecco e concludo che io inviterei la Commissione ad abbandonare qualunque approccio ideologico al Green Deal perché rischia davvero di comportare un costo che le nostre imprese e i nostri lavoratori europei non vogliono e non possono sostenere. Grazie. Grazie molto, Madame Jutta Paulus. Grazie, Chair. Grazie, Commissioner. Grazie. Grazie.